Storia, musica e falconeria, arti diverse che si intrecciano nella manifestazione visita e concerto wild, una notturna nel suggestivo scenario della fortezza di Civitella del Tronto, tra le più grandi e meglio conservate d'Europa. I partecipanti scortati da lupi cecoslovacchie e circondati da rapaci notturni saranno guidati alla scoperta delle bellezze del forte che custodisce al suo interno. Anche un museo mostra dell'antica arte della falconeria. Inoltre, per rendere ancora più speciale l'atmosfera, ci sarà una mongolfiera che sosterà a 70 metri d'altezza proprio sulla fortezza. Le famose visite wild in fortezza con i rapaci e il falconiere si sposterà per la prima volta in un orario notturno per offrire le particolarità della fortezza durante l'ambito appunto notturno. È molto importante prenotarsi perché i numeri per quello che riguarda la visita wild in notturna sono limitati, appunto per permettere a chiunque arriva in fortezza per fare questa visita chiaramente di godere al massimo dell'esperienza notturna. C'è una mostra ormai da tre anni a Civitella del Tronto dove praticamente ci sta tutta la spiegazione sulla storia e la cultura dell'arte della falconeria che è un'arte millenaria e vive ormai da 6.000 anni. Le persone possono visitare la fortezza e guardare questa mostra sia quando ci sono gli animali presenti e perciò quando facciamo le passeggiate wild o anche quando comunque la fortezza è aperta perché è aperta al pubblico. Tutte le persone che vengono comunque rimangono veramente affascinate di questo mondo che ancora oggi sembra un mondo magico che comunque unisce l'uomo alla natura in maniera simbiotica e trasferisce delle emozioni uniche.